Ciao a tutti cari amici dell'Aquario, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni per le ultime due settimane, o meglio l'ultima settimana dell'anno e la prima dell'anno prossimo, quindi l'ultima di dicembre e la prima di gennaio. Vi ricordo sempre che sono letture fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutti i suoni con voi, prendete i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Vi consiglio poi di ascoltare anche il vostro segno ascendente e segno lunare se volete avere un messaggio più completo. Prima di cominciare ci terrei tanto a fare un calorosissimo augurio di Buon Natale a tutti, io spero che lo possiate passare con la vostra famiglia, in pace, insomma, amore, abbondanza, serenità, davvero, tanti auguri di cuore. Bene, mostrami acquario tendenza energetica per l'ultima settimana di dicembre 2021 e la prima settimana di gennaio 2022. Ok, abbiamo la sacerdotessa e l'appeso. Sento che per certi versi, per qualcuno, si tratta di quello che è un inizio o un voler iniziare un certo tipo di percorso spirituale. La sacerdotessa comunque è sempre connessa con quello che è la spiritualità, con quello che è l'intuito anche, ma abbiamo comunque un'energia, diciamo, un po' statica con quello che è la carta dell'appeso. Può essere che qualcuno si senta, diciamo così, con le mani legate nei confronti di un qualche tipo di situazione o nei confronti di un qualche tipo di scoperta che si viene a fare, perché la sacerdotessa parla anche di quelle che sono le cose nascoste, le cose che non si vedono. Ha anche riferimenti con quello che era la luna, se vedete la carta qui ha una luna e quindi diciamo che fa anche riferimento a quello che è la notte piuttosto che i sogni. Ok, allora abbiamo un quadro di coppe, un mago. Io sento che con questo quadro di coppe c'è qualcuno che è come se non si vedesse questa fantastica fanciulla, il ragazzo non vede la fanciulla che è di fianco lui, è come se non si prestasse molto attenzione, diciamo, al proprio ambiente circostante. Poi abbiamo la torre, un due di spade e un sei, scusate, un due di bastoni e un sei di bastoni. Il mago mi parla di quello che è la volontà o meglio la capacità di poter plasmare, trasformare, come vi posso dire, modificare quello che è la realtà per trarne dei vantaggi, in modo positivo, in modo puro, nel senso, si tratta, riguarda quello che è la legge di manifestazione, quindi sento che in qualche modo c'è un qualche tipo di percorso spirituale, il mago è il numero uno, la sacerdotessa è il numero due, si parla di quello che è polarità maschile e polarità femminile anche in questo caso. Quindi sento che in questo momento, in questo momento della lettura, c'è la volontà di arrivare a un qualche cosa di concreto, c'è la volontà di iniziare un qualche cosa di nuovo, può essere un percorso lavorativo, potrebbe essere per qualcuno un percorso di studi, però sento che vedendo questa torre, che c'è anche un qualche tipo di cosa che andrebbe cambiato, andrebbe lasciato alle spalle. La torre parla sempre di un crollo, insomma, di quello che sono le sicurezze, di quello che sono le proprie certezze, per certi versi anche proprio un crollo da un punto di vista fisico, magari non so, qualche tipo, vi faccio un esempio, la macchina che ci abbandona, perché non funziona più, si rompe, quello potrebbe essere una torre, nel senso che se si dà per scontato che la macchina funzioni, oggi arrivo, l'accendo e non parte. Quindi tutto quello che io ho in testa di fare durante la giornata cambia, ecco, anche quello può essere un momento torre, ok? Abbiamo un 2 di bastoni, il 2 di bastoni mi parla di quello che è, abbiamo un mago anche, un 1 e un 2, quindi quello che sento è che per qualche motivo siete comunque proiettati in avanti, in una fase di stallo in realtà, a livello fisico, a livello pratico diciamo, però con la mente avete in testa un qualche tipo di obiettivo, un qualche tipo di, come vi posso dire, di conquista da fare. Il 6 di bastoni mi parla di quello che è un condottiero, ok? Il condottiero che va alla conquista di terre lontane, è comunque un condottiero di un certo, come vi posso dire, di un certo successo, perché ha comunque la corolla di alloro. La corolla di alloro rappresenta quello che è un premio, ok? Quindi è proprio la carta del successo, diciamo, sì. E poi abbiamo l'imperatore. L'imperatore parla di quello che potrebbe essere o una persona in questo caso, oppure quello che fa riferimento a un certo tipo di stabilità conquistata comunque nel tempo, ok? Probabilmente si passa da questo voler manifestare a questo momento che porta uno sviluppo a quello che è la concretezza. E poi abbiamo un 8 di coppe. L'8 di coppe potrebbe parlare di quello che è un viaggio fisico, uno spostamento di tipo fisico, oppure potrebbe parlarmi di quello che è l'allontanamento da una relazione, piuttosto che da una situazione, piuttosto che da emozioni anche. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo questo 4 di coppe per i nostri amici dell'acquario. Vediamo che cos'è che non si vede. Abbiamo un fante di pentacoli, un asso di coppe e un 9 di pentacoli. Qui c'è qualcuno che sta ricevendo quello che è un'offerta, una proposta da parte di questa persona. Il fante di pentacoli può rappresentare per certi versi anche dei figli, se no rappresenta comunque quello che è un'energia giovane, un'energia giovanile. Potrebbe anche dire un'energia un pochettino immatura, ma c'è un qualche tipo di offerta comunque che viene fatta davvero in modo concreto, viene fatta con il cuore anche, no? E abbiamo anche un 9 di pentacoli. Il 9 di pentacoli è una carta di grossa, grossa, grossa abbondanza. Parla di quello che è l'autosufficienza, l'indipendenza, il godersi delle cose, il godere delle cose che si ha. E se ci fate caso, la figura ha anche un po' di panciotta, quindi potrebbe anche far riferimento a quello che è una gravidanza, insomma. La vedo un po' come la carta, come l'arcano minore dell'imperatrice, se vogliamo. Ok, quindi io sento che qui c'è qualcuno che non si sta accorgendo di quello, insomma, che sia intorno, di questa proposta che sta arrivando. Magari perché se non siete in coppia, nel caso fosse una stessa d'amore, potrebbe essere che ancora non conosciate questo tipo, questa persona e voi stiate cercando di manifestare. Andiamo a vedere che cosa state cercando di manifestare. Vediamo perché c'è questo mago. Abbiamo un 5 di coppa al contrario. Wow, è proprio volata. E una regina di spade. Per certi versi sento che qualcuno ha bisogno di tagliare con quello che è il passato, ha bisogno di tagliare con quelli che sono i sensi di colpa, la sofferenza. Si vuole per certi versi riuscire anche ad essere più determinati, ok? Sento con questa regina di spade. C'è bisogno comunque di diventare un po' più razionali, un po' più logici, forse anche calcolatori per certi versi. Allora, andiamo a vedere la torre. Potrebbe la regina di spade essere anche una persona intorno a voi che comunque vi ha fatto star male e così cerchi di lasciarsi indietro questo tipo di dolore. È un'energia femminile, non necessariamente una donna in bassa, ok? Abbiamo una regina di pentacoli e un 3 di spade e qui abbiamo la torre, quindi sento che qui qualcuno è stato tradito nella fiducia da quello che è questo tipo di energia. La regina di pentacoli normalmente fa riferimento a qualcuno che sa amministrare molto bene le proprie finanze. Potrebbe tranquillamente essere una stesa di lavoro, ok? E questo tipo di gestazione, di indipendenza di cui parlavo prima potrebbe essere una nuova proposta di lavoro, un nuovo contratto magari. E qui sento appunto che c'è questa sorta di tradimento, c'è questa sorta di sofferenza per cui cascano un po' quello che sono tutte le sicurezze, quelle che sono tutte le certezze che si avevano fino al momento. Per qualcuno potrebbe essere che, diciamo, si deve dare questa torre, non si riceve. Nel senso che il fatto di magari fare un qualche tipo di comunicazione si sente che con questa torre si va a tradire quello che è una figura femminile intorno a voi. Ognuno lo applichi alla propria realtà di vita e come meglio risuona. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, per piacere e grazie. Ancora uno. Allora, il 2 di bastoni è spiegato dalla luna del cavaliere di spade. Per qualcuno fa riferimento a un ex, io sento che qualcuno vorrebbe di nuovo questo ex nella nella sua vita, ok? Penso che questo tradimento, questa sofferenza sia dovuta a questo tipo di personaggio, al cavaliere di spade, perché comunque il cavaliere di spade è sempre una persona, diciamo, determinata, è sempre una persona anche quasi un po' arrogante, tanto perché parte per la guerra, va dritto all'obiettivo, però essendo un cavaliere che parte per la guerra non c'è sempre, va e viene. E quindi c'è questo tipo di energia, diciamo, a intermittenza, un po' c'è e un po' no. E potrebbe anche essere che è il tipo di stabilità che non vi dà che vi stia facendo soffrire, ok? Se fosse una sede di lavoro, questo cavaliere potrebbe essere un cliente, un partner, un collaboratore, insomma, un collega. Andiamo a vedere perché abbiamo i sei di bastoni, per piacere, grazie. Ok. Il sei di bastoni è spiegato da un re di denari, vi ricordo che avete anche la regina di denari, quindi se fosse una stesa d'amore potrebbe essere quello che tecnicamente viene chiamata una coppia per destino. Abbiamo il mato al contrario e il fante di coppe al contrario. Allora, il re potrebbe rappresentare una persona o un qualche tipo di energia. È sempre un'energia, essendo di pentacoli, è un'energia comunque che ha una certa stabilità, ok? È una persona che sa come comandare. Non è una persona, io sento, che fa false promesse, ok? È comunque un re di pentacoli, è concreto come personaggio, come energia. Però è anche una persona che non si fida di tutti, è un po' diffidente, diciamo. Non è una di quelle persone avventate, non è una di quelle persone, insomma, impulsive, se vogliamo, no? Quello che sento se non dovesse avere nessuno o magari se fosse una stesura di lavoro, io sento che c'è bisogno comunque di diventare più concreti e imparare a non fidarsi di nessuno. Nel senso che meglio soli che mal accompagnati. Comunque, fidarsi vuol dire aprire il cuore. Io in realtà sono pro, però non diventare ciechi, ecco, nel senso che bisogna sempre avere un certo discernimento. Andiamo avanti con l'imperatore, vediamo perché abbiamo questo imperatore qui. Abbiamo un fante di spade, quindi wow. La carta del karma e la regina di coppe. Allora, l'imperatore è una carta di forte stabilità, è una carta di grosso potere personale. Ha l'ank, questo simbolino qui, c'è la qui, se si vede che c'è il sole. Ok, questo simbolino qui, che è il simbolo della chiave della vita. E abbiamo anche la carta del karma, che è la carta del giudizio. Io sento che qui qualcuno, grazie anche a questa sacerdotessa, fa un qualche tipo di lavoro a livello spirituale. C'è una sorta di riconnessione con quelle che sono il proprio cuore, sento il proprio lato amorevole, il proprio lato materno, se vogliamo. Anche qui mi ritorna di nuovo un po' l'energia di questo 9 di pentacoli, ok? Ma il discorso è che abbiamo un giudizio, quindi il giudizio mi parla proprio di quello che è il karma, in questo mazzo si chiama karma, la carta. O mi potrebbe parlare di nuovo di qualcuno del passato. È come se ci fosse un qualche tipo di pensiero, o magari è proprio una persona che ritorna dal passato, ok? O potrebbero essere semplicemente delle emozioni che riaffiorano. Comunque l'imperatore è qui per dirvi, con queste tre carte, di controllare quelli che sono gli schemi di vita, di controllare quelli che sono le dinamiche che continuamente si ripetono all'interno della vostra vita. Riconnettervi con quelle che sono le vostre emozioni, ok? E dare una struttura. Una struttura nel senso, questa emozione era buona, quando succede questo mi sento bene, è giusto tenere questa emozione. Quando mi succede questa cosa mi sento male. Perché mi sento male? Che sentimenti provo? Ho paura, ho rabbia, ho frustrazione. Questo mi serve? Sì, no. La paura mi serve? Sì, magari per essere più prudente. Allora ne tengo un po'. Cioè bisogna fare poi questo tipo di lavoro, diciamo. Va bene, andiamo a vedere l'otto di coppia. Per piacere, grazie. Abbiamo una temperanza e un solo al contrario. C'è bisogno di, come vi posso dire, qui avevamo il mago e qui la sacerdotessa, bilanciare quello che è l'energia maschile con quello che è l'energia femminile. In questo momento sento che l'energia maschile fa fatica comunque, anche il sole è collegato all'energia maschile. Fa un po' fatica, diciamo, a stare in equilibrio. In effetti avete una sacerdotessa che è proprio la, diciamo, l'energia femminile, no? Femminile nel senso che è quella parte, diciamo, ricettiva, intuitiva, anche un po' passiva, se vogliamo. Mentre la parte maschile, diciamo, riguarda la parte, l'azione, l'attività, insomma, il fare, il decidere. E qui c'è qualcuno che con questo 8 di coppe ha bisogno di lavorare, di deallontanarsi, io sento, per trovare quello che è un equilibrio tra, diciamo, il lato destro e il lato sinistro, ecco, tra quello che è la propria femminilità e la propria mascolinità. O meglio, divino femminile e divino maschile, mi piace di più chiamarli così. Bene, andiamo a vedere che altri messaggi ha Osho per voi. Andiamo a vedere questo matto che cosa vi racconta. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale, potete mettere un like al video, se comunque la lettura fin qui vi è piaciuta, potete iscrivervi e potete condividere. Bene, andiamo a vedere Osho. Il fulmine, wow, il fulmine. La torre, un'altra volta. C'è qualche cosa che cambia qui. Io penso che ci sia una vostra presa di consapevolezza in questo periodo. C'è un qualche cosa che viene a galla, che vi fa sentire comunque con le mani legate, ok? E può essere che ci sia questa offerta che non vogliate vedere perché arriva questa torre, ecco, la presa di consapevolezza. Poi vediamo le altre due. Wow, guarigione. Questa carta rappresenta 10 di coppe e parla di quello che è avere una sorta di coerenza tra quello che vuole la mente e quello che vuole invece lo spirito, io direi. Abbiamo un quarto chakra illuminato, quindi si tratta di mettere in connessione corpo-mente-spirito. In quel modo lì si va verso la guarigione. Se io con la testa mi sento obbligata a rimanere in un lavoro, ma con il cuore non mi piace, ci patisco, soffro tutti i giorni che vado, mi lasciamo al volentieri, ecco, lì non si è in assetto. Bisogna cercare comunque di essere coerenti. Se so che non mi piace, cerco in tutti i modi possibili di cambiare il lavoro, piuttosto che la situazione, piuttosto che le amicizie, quello che è. E poi abbiamo celebrazione, quindi sento che comunque ci sarà un'evoluzione. Abbiamo comunque anche quello che è un otto di coppe, alla fine una temperanza, che anche la temperanza qui mi parla di guarigione, mi parla di quello che è un aiuto da parte del cielo, un aiuto celeste proprio. Bisogna solo forse un attimino cercare, andare a scoprire un po' di più quella che è l'essenza, no? Questa carta è l'arcano minore dell'eremita, quindi anche questo mi parla proprio di ricerca spirituale. E quindi c'è questa celebrazione, c'è quest'unione, c'è questa tra virgolette vittoria, anche se poi tra virgolette mica tanto, perché la carta del successo ce l'avete voi, quindi se prospetto un periodo, sì, è vero, avete la torre. Quindi aspettatevi un qualche tipo di notizia un po' destabilizzante. Però io sento che sarà, cioè si finisce bene, nel senso che comunque ci sarà una maggiore consapevolezza di sé, del proprio potere personale, avete ripeto la carta del successo, c'è la carta della celebrazione, quindi alla fine sarà un qualche cosa che verrà fuori, che magari si destabilizzerà, ma che darà l'inizio a quello che è un qualche cosa, una nuova presa di consapevolezza, una nuova presa di coscienza. Sento che per certi versi si lascia indietro quello che è il sacrificio di se stessi in nome di questa relazione piuttosto che situazione, ok? Bene, andiamo ancora a vedere un attimo questi oracoli che messaggio hanno per voi. Andiamo a vedere ancora due carte per i nostri amici dell'acquario. Abbiamo The Chaser, e quindi qui questa carta parla di codipendenza fondamentalmente, parla di relazioni, e ci dice che si ha una certa paura a lasciarsi andare, ad abbandonarsi, insomma, a quello che è una relazione. Quindi per qualcuno può risuonare questa sorta di aver le mani legate all'interno di una relazione, ok? Il discorso della codipendenza, delle manipolazioni mentali, gli abusi psicologici. E infatti abbiamo anche un'altra carta che ci dice non abbastanza. Qui mi parla di qualcuno che è frustrato all'interno della relazione, ecco perché il fulmine, ecco perché la torre, ecco perché il tre di spade, ok? Abbiamo anche qui una carta di pentimento. È come se qualcuno stesse cercando di manifestare più rigidità, più freddezza mentale davanti, e anche emozionale, davanti a certe situazioni. E mi parla anche di quello che è un autosabotaggio. Quindi occhio ai pensieri, a quelli che fate, perché comunque siete in un processo di evoluzione, siete in un processo di introspezione in questo momento. La vostra energia, la sacerossia e la sacerdotessa che l'appeso sono due carte comunque che hanno un'energia statica, ferma, passiva. Ed è un po' la sensazione di sentirsi con le mani legate appunto. Bene, voglio andare a vedere ancora un messaggio da questi oracoli. Sono messaggi di luce diciamo. Vediamo che cosa vi dicono. Wow, il mondo interiore. Questa carta parla del fatto che come noi percepiamo, viviamo, pensiamo e visualizziamo all'interno di noi, nello stesso modo si manifesta fuori. Quindi si tratta di cambiare la visione di noi stessi e di noi stessi in relazione agli altri dall'interno. Sì, è d'accordo che bisogna fare, bisogna, anche il mago mi parla comunque di azione, però ricordatevi che voi avete la sacerdotessa come diciamo carta predominante della lettura e anche l'appeso. E quindi mi parla proprio di quello che è un lavoro di introspezione, che è il guardare le cose da un altro punto di vista, diventare più obiettivi anche se vogliamo. E poi questa carta mi parla di rilasciare e mi dice di rilasciare tutto quello che non fa parte del vostro schema più autentico. Quindi parla proprio dell'essere autentici, del non fare determinate scelte o di non comportarci in determinati modi solo per appagare le aspettative degli altri, ok? Perché sinceramente se gli altri si creano aspettative il problema è loro. Nessuno è tenuto a dover soddisfare le aspettative degli altri, ok? Sono delle proiezioni che si fanno. Allo stesso modo vale per voi, se voi proiettate che quella persona farà quella cosa perché voi ve lo aspettate, il problema è vostro. Se poi non lo fa e ci rimanete male, ok? Bene, cari amici dell'acquario, questo è quello che avevo per voi e spero davvero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao! Ciao!